Buona giornata, oggi è il venerdì della terza settimana di Quaresima. Il dolore, lo sappiamo, urla molto dentro di noi. Nella nostra vita ci muove il dolore, o nostro o quello degli altri. Nessuno di noi ha sconti sul dolore fisico e interiore. Che facciamo? Ci disperiamo? O gridiamo soltanto Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche Gesù ha detto così. Però guardate questo bellissimo crocifisso di Velázquez. Come è sereno Cristo. Perché? Perché ha detto Padre, mi metto nelle tue mani. E si è rasserenato. L'augurio più bello che posso fare a me e a noi tutti, di avere un coraggio della serenità, del dolore, perché ci sentiamo comunque figli accompagnati da Dio, sempre. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.